Le vibrazioni Aiello, Ivana Spagna, Tiro Mancino, Anna Tatangelo, Alex Britti, Audio 2, Samuel dei Subsonica, Alan Sorrenti, Sorgentone, Nesli, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Sono i big dello spettacolo, protagonisti del calendario degli eventi estivi del comune di Montesilvano, che con questo cartellone si candida a essere la regina dell'estate. Concerti, spettacoli e festival rigorosamente gratuiti animeranno l'intero territorio comunale, dalla riviera al borgo di Montesilvano Colle, accontentando grandi e piccini per un mare di eventi che inizieranno a giugno e finiranno a settembre. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, quali sono gli eventi di punta di questo calendario? Allora, è un calendario molto variegato, che ovviamente, come le scorse estati, avrà al suo interno tutta una serie di eventi più piccoli, ma ci sono eventi di spicco, appunto, mai come quest'anno. Io ritengo che, senza timore di smentita, si possa dire che Montesilvano non ha mai avuto un cartellone così importante, frutto di un bel lavoro di squadra, sicuramente con i due assessori, Deborah Gomardi e Alessandro Pompei, ma anche con il resto della maggioranza, che ha contribuito e condiviso le scelte. Gli eventi di punta sono dei concerti che si terranno per la maggior parte al Teatro del Mare e che vedrà sul palco esibirsi i Tiro Mancino, le vibrazioni, Anna Tatangelo. In spiaggia ci sarà un bellissimo concerto di Vana Spagna che ci richiamerà ai tempi degli anni Ottanta, ma non solo questo, ci sarà una serata dedicata alle cantautrici e sul palco ci saranno insieme Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale. Ci sono due appuntamenti per i più giovani, ci sarà un bellissimo concerto di Aiello, che è un cantante che va a parlare maggiore degli ultimi tempi, ma anche Nesli è il nostro critical. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e siamo certi di aver regalato non soltanto ai turisti, ma alla nostra città è qualcosa di importante, soprattutto considerando che noi puntiamo sugli eventi quale elemento contraddistintivo e soprattutto importante di richiamo per una città turistica come la nostra. Di che impegno economico si tratta? In totale, considerando non soltanto il cachet degli artisti, ma anche le spese per l'allestimento dei palchi e la SIAE, contiamo un 500 mila euro di spesa. Alessandro Pompei, Assessore del Comune di Montesilvano agli eventi giovanili, allora quali saranno gli eventi di punta del cartellone estivo di Montesilvano? Allora, siamo molto contenti questa mattina di poter presentare un cartellone che riteniamo essere probabilmente il migliore da quando siamo in carica e ci tenevamo a farlo proprio perché questa è l'ultima estate prima della fine del nostro mandato. Abbiamo investito tanto in maniera sempre crescente anno dopo anno sugli eventi giovanili in maniera particolare e purtroppo è saltato pochi giorni fa il concerto del primo maggio, ma lo recupereremo sabato in occasione dell'avvio del Giro d'Italia, un format fresco sul pontile di via Finlandia, con DJ Sciocca che è un nome che i più giovani conosceranno sicuramente. Abbiamo tante dati importanti per quello che riguarda i giovani come ad esempio il Ferragosto dell'Adriatico, ci saranno due giorni, 14 e 15 agosto, con degli ospiti molto importanti su tutti, Samuel de Subsonica. Ci sarà Aiello, ci sarà Nesli insieme a Critica, non vi spoiler le date e così almeno andrete a cercarle sul cartellone. All'interno del Girama Festival che confermiamo sul borgo di Montesilvano Colle per il terzo anno consecutivo ci saranno come ospiti Pino D'Angio e Alan Sorrenti ed inoltre tante e tante altre novità perché ci saranno anche dei digi setti spiaggia, delle feste per i più giovani, al tramonto e molto altro. Ci aspetta un'estate molto interessante. Quest'anno abbiamo scelto di investire un po' di più su quelli che sono i big che presentiamo oggi, però diciamo che le cifre non sono elevatissime come alcuni comuni concorrenti. Anche Assessore allo Sport ci saranno anche degli eventi sportivi che caratterizzeranno questo cartellone? Ci saranno tantissimi eventi sportivi come ogni anno da che siamo in carica e ci sarà un'altra per il terzo anno la tappa del campionato italiano di beach volleyball, una tappa gold all'interno della quale verrà assegnata anche la Coppa Italia, ci sarà un torneo di street basket federale 3 contro 3 Memorial Marco Zitella, ci saranno i campionati italiani di triathlon che confermiamo anche questi per il terzo anno consecutivo con oltre 5.000 presenze da tutta Italia, ci sarà la Montesimano Futsal Cup giunta alla decima edizione con partecipazioni dal Sud Africa, dal Giappone e dal Canada, ci saranno dei campionati giovanili di ciclismo che porteranno circa 10.000 presenze a metà giugno, anche dal punto di vista dello sport ci sarà un'estate molto attiva. Avremo poi a giugno il Pulpa Festival e le finali nazionali di pallamano, insomma davvero tanta carne sul fuoco. Deborah Comardi, assessore del Comune di Montesilvano per il turismo, il 15 agosto altro appuntamento importante con un nome di punta. Il 15 agosto avremo Alex Britti al Teatro del Mare e avremo anche un grandissimo concerto sulla spiaggia del Java Beach, quindi un doppio appuntamento per gli appassionati della musica. Quest'anno abbiamo voluto puntare enormemente sul cartellone degli eventi dopo i grandi risultati ottenuti dalla città di Montesilvano, risultati che ci hanno consentito di entrare nella top 10 di Air B&B, che è un risultato straordinario per Montesilvano, non era mai accaduto. Abbiamo investito in questi anni, vogliamo continuare ad investire per creare di Montesilvano, per fare di Montesilvano la regina degli eventi estivi. Come sono stati scelti questi artisti? Qual è il criterio che vi ha guidati nella scelta? Il criterio che guida la scelta degli artisti è un criterio che tende a contentare quelli che sono i gusti più disparati, quindi qualcosa per i giovani, qualcosa per i meno giovani, trend pop, un po' sul rock, band singoli, quindi è un cartellone che tende ad essere variegato proprio per accontentare i gusti dei più. Sono tutti eventi gratuiti? C'è qualcosa a pagamento? Come Montesilvano abbiamo puntato sugli eventi gratuiti e dall'inizio è il nostro mandato che teniamo questa linea, vogliamo far usufruire della vitalità, della bellezza, della musica e della gioia a tutti i cittadini di Montesilvano e a tutti i turisti e i turisti, così che possano continuare a scegliere Montesilvano come meta per le proprie vacanze. I cittadini possono invece usufruire di due mesi pieni di vacanza senza spostarsi da casa. E ne gioverà anche il turismo e ovviamente tutto l'indotto? Assolutamente, è proprio una scelta di tipo strategico perché il turismo porta economia. Dopo la parentesi del Covid, tra l'altro c'è ancora tanto da recuperare? Sì, sì, tant'è che abbiamo proprio fatto un'escalation dopo il Covid, abbiamo cercato poi di recuperare tutto quello che è rimasto sospeso, anche se durante il Covid Montesilvano ha retto molto bene poiché abbiamo creato tutta una serie di eventi diffusi per cui siamo riusciti a reggere anche questa grande sfida. Infine, per saperne di più, c'è un sito internet immaginiamo da consultare, sul sito del Comune ci saranno tutte le informazioni del caso? Sì, abbiamo un sito turistico che si chiama visitmontesilvano.it dove ci saranno tutte le informazioni informazioni che riguardano appunto il turismo in Montesilvano, tutti gli eventi, abbiamo anche un'app dedicata all'app della città di Montesilvano, quindi di strumenti per poter partecipare e vivere insieme la città ce ne sono tanti. Sindaco, come vi organizzerete per gestire anche il flusso delle persone che accorreranno per vedere questi concerti? Diciamo che siamo ormai collaudati perché negli anni abbiamo strutturato un'isola pedonale con degli spazi parcheggio che garantiscono insomma una fluidità dal punto di vista non soltanto del traffico ma anche degli spazi da visitare e degli spazi di sosta per arrivare poi ai luoghi dove deputati a ospitare gli eventi. In più ogni anno c'è un terzo turno della Polizia Locale che prevede un numero cospicuo di agenti della nostra Polizia Locale che fungono da monito e da deterrente per eventuali situazioni spiacevoli che però non si sono mai registrate ma che servono anche ai fini di un'organizzazione che è sempre strutturata ma che necessita sempre comunque di un controllo importante. L'isola pedonale da quando sarà attiva? Dal 29 di giugno chiuderemo al traffico tutte le sere il tratto che va in modo particolare da Via L'Europa fino al Paladin Martin che risulta essere poi il luogo che più di tutti ospita gli eventi ma non soltanto quest'area ma anche Montsivano Colle sarà attenzionato da una zona a traffico limitato per tutta l'estate e anche il tratto dell'area Giova dove si terranno degli eventi in alcune serate particolari potrà essere chiuso al traffico. Siamo organizzando un po' tutto ma siamo collaudati quindi siamo certi che tutto andrà bene come del resto è andato in questi anni. Il Paladin Martin sarà un punto nevralgico per i parcheggi ma in conferenza stampa lei ha annunciato anche importanti novità che riguarderanno questa struttura a partire da settembre. Ci vuol dire qualcosa in più? Il Paladin Martin che è diventata una struttura sempre più importante e strategica per il nostro territorio non soltanto Montsilvanese nei prossimi giorni sarà oggetto di interventi importanti che la riqualificheranno e la renderanno ancora più funzionale motivo per il quale durante l'estate non sfrutteremo l'interno del Paladin Martin come accaduto in altre stagioni ma solo il parcheggio sia l'area parcheggio sia appunto quale area di sosta per le autovetture ma in qualche occasione anche come sede di qualche evento. C'è però grande soddisfazione perché grazie a un fondo regionale abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti degli interventi che appunto come dicevo prima lo renderanno più funzionale anche per quello che riguarda gli eventi che all'interno vengono ospitati soprattutto da un punto di vista acustico verrà fatto un gran bel lavoro e diventerà ancora più un'area e un luogo deputato a ospitare eventi che comunque negli anni sono stati sempre di più. Gli eventi che sono stati presentati in questo calendario estivo, un mare di eventi non riguarderanno soltanto la zona della Riviera perché lei ha detto che sarà coinvolto davvero tutto il territorio comunale anche il borgo di Montesilvano Colle. Dall'inizio del mandato abbiamo dato grande importanza al borgo che voglio ricordarlo è la sede del primo insediamento umano di Montesilvano, Montesilvano è nata dal borgo e quindi un po' per questa valenza storica che stiamo sempre più rimarcando ma anche per la bellezza del luogo abbiamo pensato anche quest'anno come negli altri anni di organizzare degli eventi che poi in controtendenza con quello che si faceva in passato non riguarderanno soltanto una fascia di età alta o medio alta con eventi culturali ma c'erano anche eventi giovanili e questo ci fa un gran piacere perché sono poi anche i ragazzi che negli ultimi anni hanno voluto e potuto apprezzare il nostro meraviglioso borgo di Montesilvano Colle. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutta l'età come diceva e questo è un segno anche di attenzione alle tante famiglie che magari vorrebbero organizzare qualcosa per i più piccoli e in questo caso voi mettete a disposizione eventi gratuiti anche per le famiglie che magari non possono permettersi di spendere troppi soldi per i propri figli. Sì, è una scelta, è una politica che abbiamo attuato da tempo da quando sicuramente io sindaco ma anche prima quando rivestivo il ruolo da assessore agli eventi della città di Montesilvano. È una politica appunto che vuole favorire le famiglie noi del resto siamo una città che vive di turismo familiare quindi è giusto ponderare delle scelte proprio in direzione di un gradimento da parte non soltanto dei turisti che viaggiano da soli ma anche soprattutto da loro che hanno al proprio interno nel nucleo familiare delle esigenze diverse e quindi considerando anche che gli alberghi fanno dei pacchetti una settimana noi in ogni settimana cerchiamo di variegare il più possibile in modo tale di offrire ogni sera qualcosa di diverso e soprattutto che possa essere di gradimento a tutti al papà, alla mamma, al nonno ma anche al bambino.